chi riconosce questa erba officinale sembra il pinocchio ma non è il pinocchio lo faccio vedere qua mi trovo bellissima guardiamo la campagna circostante cominciamo dal lato est la penerfuccia con l'armela celano monte pelino avezzano un po' di un punto la ciola maiana monte salbiano come luca dei marzi vediamo con della ciocca monte bella mi trovo diritto al fermentino e piede la montagna c'è il castagneto e monte romanella candelecchia montagne di trasacco trasacco e qui dove mi trovo io ecco qua sto fermato un attimo mi piace spesso fare escursioni mi trovo qua vicino alla cassa del mezzogiorno c'è un tubo dell'acquedotto intercomunale avezzano luco rosacco